23 aprile, festa liturgica di San Giorgio Martire. Oggi sia Ragusa che Modica si preparano al grande evento. A Ibla i festeggiamenti pongono l'attenzione sugli scout, in quanto il Santo Cavaliere è anche protettore degli scout di tutto il mondo. Questi oggi fanno il dovere speciale di meditare la promessa e la legge. Parteciperanno alla celebrazione eucaristica preseduta da Monsignor Paolo Urso e con la partecipazione del Sindaco e delle autorità civili e militari. Il paroco del Duomo, Don Pietro Floridia, si dice contento di questa iniziativa, accogliendoli a braccia aperte. Mentre a Modica i festeggiamenti cominciati già stamani, quando la città si è svegliata con i colpi di cannone, seguita dalle celebrazioni eucaristica. Nel pomeriggio è prevista la processione per i più piccoli con la statuetta del Santo Martire, che faranno cavalcare per le vie di Modicalta. Un calendario che non termina qui, ma sarà intenso per tutto il fine settimana in entrambe le città. Grazie a tutti.